Hauaiiana è urgente ho visto una persona che portava via le gattine le gattine? come? che c'è questo? ciao a tutti ooooola estrellitas io sono Sofie, lei e Moni insieme siamo Las Lunas siamo qui in Messico al mare in un nuovissimo video video pazzo e io ho appena fatto il bagno per quello che sono in costume esatto allora Sofie ti dico una cosa tu vai sciacquati e fatti bella perché c'è devo sciacquarmi dal cloro si perché c'è una bellissima sorpresa dimmela non posso dirla dimmela dimmela la sapranno prima le estrellitas e poi tu se fai in fretta posso essere un estrellita così così scopro la sorpresa? e tu sei una luna Las Lunas noi siamo le lune e voi siete le stelline estrellitas allora vai subito dimmi la sorpresa vai subito e intanto parlo con le estrellitas ti aspettiamo dimmi la sorpresa ti devi preparare e fare bella vai ciao a dopo eccoci qua Sofie si sta facendo la doccia e nel frattempo io sono in spiaggia per darvi un'anteprima e svelarvi che cosa bolla in pentola che cosa sta combinando mamma Moni che sono io e oggi faremo una festa in spiaggia per festeggiare i 100.000 iscritti cioè le 100.000 stelline che siete voi iscritte al nostro canale ehi se tu non sei ancora iscritto o iscritta puoi farlo subito clicca iscriviti e clicca la campanella scusate sono un po' emozionata sto straparlando ma adesso vi farò vedere che cosa ho preparato ho delle decorazioni da mettere in spiaggia e adesso che scenderà Sofie le metterò decorerò insieme a lei voi dovete sapere Stritas che qui siamo in mezzo ad una spiaggia in mezzo al nulla è una spiaggia dove non c'è niente ci siamo solo noi tipo Robinson Crusoe per capirci cioè isola deserta e quindi qui non ci sono negozi ho trovato qualcosa un po' lontano da qui e l'ho comprata di nascosto da Sofie vediamo che cosa c'è ecco qui la scatola con i miei segreti allora forbici scotch ma vediamo che cosa ho preso qui ecco delle decorazioni molto carine che cosa ne dite piaceranno a Sofie questo colore in realtà volevo prendere il mio colore preferito che è il turchese ma ho trovato comunque questo azzurro mare che è bellissimo e voglio appenderlo adesso vediamo come e dove poi ne ho preso un altro color rosa anzi due sono bellissimi e poi non mi ricordo neanche più ah si ho preso dei palloncini e ci possiamo aiutare con questi ecco qui guardate quanti palloncini che abbiamo e poi ho preso anche delle collane stile hawaiano che vedrete fra pochissimo allora io direi che mi devo dare un po' da fare a gonfiare i palloncini nell'attesa di Sofie che ne dite sarà una festa molto bella e lei non se l'aspetta non sa che festeggeremo i 100.000 iscritti ecco Sofie Sofie chiudi gli occhi chiudi gli occhi chiudi gli occhi li stai tenendo chiusi? si ma non so dove sto andando dammi la mano vieni vieni ancora di qua un pochino un pochino un pochino un pochino adesso fermati qui fermati eh Sofie avvicinati un po' che non ti vedo dove? giù di qua dritta cammina un po' più sinistra no destra dai destra destra ancora ok vieni ecco adesso si vede la tua faccia girati di qua girati apri gli occhi ti piace? guarda che cosa stiamo facendo siamo che cos'è? preparando un tavolo sulla spiaggia e stiamo mettendo le decorazioni ti piace? bello ci aiuti? si Sofie ho dei nuovi capelli sono rosa volevo far vedere come sei vestita bene sei davvero stupenda grazie mi aiuti a gonfiare i palloncini? si vediamo se Sofie riesce a gonfiare i palloncini vabbè io li riesco a soffiare solo che l'inizio è un po' difficile per me vai 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 dai dai che ce la fai Sofie diventa rossa qualche palloncino l'abbiamo già gonfiato niente è ritorno più tardi da te no in realtà io ne ho di già gonfiati alcuni vero? solo che adesso non si riesce più e voi riuscite a gonfiarli? con l'aria ce l'ho fatta si è sgonfiato è ingiusto è streitas sono salita su un attimo in casa perché il mio outfit non è adeguato e Sofie è bellissima la nonna rosy adesso la vedrete ed è arrivato anche il papi e si sono vestiti tutti per l'occasione quindi manco io ma adesso devo decidere che cosa mettermi allora sinceramente non ci avevo pensato eh ho tutti i vestiti così un po' da spiaggia eh questa è una bellissima gonna ma non ho il top eh streitas sono veramente in confusione eh potrei mettermi eh un vestito azzurro oppure ne ho uno rosso scrivetelo qui sotto nei commenti secondo voi dovrei mettere il vestito rosso o il vestito azzurro mmm eccomi qui sono pronta alla fine grazie anche ai vostri consigli ho deciso di vestirmi di azzurro e si perché Sofie vestite di rosa io di azzurro e quindi sono i vostri colori le streitas femmine e le streitas maschi eeeh 100.000 sofie sofie hai capito allora perché questa festa si per festeggiare e tutti i nostri amici e amiche grazie a voi siamo arrivati ai 100.000 si siamo una famiglia enorme io non ci potevo credere Sofie e tu Sofie Sofie non ti vedo dove sei anche tu Sofie ciao ciao uuuuh che la festa abbia inizio eeeh abbiamo pure portato giù le gattine le gattine ci sono anche le gattine sono che sono andate in mezzo alle piante sono andate in spiaggia al mare le gattine le dobbiamo andare a prendere e streitas le gattine non si fanno prendere perché sono in giro per la spiaggia ma Sofie è riuscita a prendere Chloe eccola lì e neve è a corsa via e la nonna dov'è? si neve è a corsa via e il papi sta arrivando con neve dammela 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 uuuuuh amore amore aiuto con la telecamera insomma non riusciamo proprio a inquadrarle tutte e due insieme le gemelline ma vi assicuriamo che sono due lei è neve e l'altra che è corsa via è Chloe eccoci qua e questa è la nonna Rosy si che è qui con noi in Messico a festeggiare sei contenta nonna? certo sono felicissima felicissima di questo buon traguardo e un successone 100.000 grazie nonna Rosy grazie anche a te c'è ma dopo c'è pure c'è papi eccolo qua c'è anche il papi che lui in questo canale è fatto senza testa esatto senza testa senza la faccia davanti papi saluta con la manina ciao racconta per chi non ha visto il video che papi non si vuole far vedere in nessun modo vero? eh sì è vero che cosa abbiamo fatto? l'abbiamo spiato e volevamo farvi vedere la sua faccia ma noi in tutti i modi non si è fatto vedere anche con la maschera della rana cracra ma io direi non c'è festa che non inizi con un buon brindisi perché è arrivato lo spumante facciamo un bel brindisi ecco papi che sta aprendo lo champagne perché ci trattiamo bene oggi dobbiamo festeggiare alla grandissima allora noi abbiamo una tradizione qui che quando il papi apre le bottiglie Sofì corre prendere il tappo al volo normalmente lo facciamo quando ci sono più bambini e bambine ed è tipo una gara potete farlo anche voi estrellita pronte? sì Sofì non ti far fregare dalla mamma eh non ti far fregare Sofì vale anche lo sgambetto con la mamma eh dai dai gira il tappo uuh eccola prenda l'avevo toccato l'avevo preso al volo estrellita con questo dito poi mi è scappato per terra e l'ha preso lei vabbè tutte scuse hai vinto ti meriti questo brindisi allora allora Sofì tu che cosa ti sei versata? l'acqua gasata l'acqua gasata non puoi bere il vino l'acqua gasata oh mamma ti sei già ubriacata una volta con la tua amica Lu Lucrezia ho capito ma pensavo che era succo di mirtilli vi lasciamo il video qui qui di fianco di quando Sofì si ubriacata non puoi bere eh dobbiamo fare un brindisi no sto facendo così con il mio naso i bicchieri pronti tutti i bicchieri pronti il brindisi con il mio naso il brindisi con il mio naso eccoci qui nonna Rosi fatti vedere anche tu siamo tutti qui a festeggiare fatti vedere nonna vieni nonna tanti auguri e congratulazioni a tutti noi a voi due bravissime e congratulazioni anche a voi estrellita che fate parte della nostra famiglia sì quando si fa un brindisi per tua sfortuna appoggiare il bicchiere al tavolo bisogna berlo subito bello fresco io l'ho bevuta tutta buonissimo qui al mare e adesso mangeremo che cosa mangeremo? io non lo so allora per Sofì c'è minestrone come antipasto e zucchine di secondo no che zucchine mi fanno schifo a me le zucchine ah perché al minestrone ti piace? ma se sono così buone le zucchine estrellita se a voi piacciono le zucchine qual è il vostro piatto preferito? scrivetecelo qui sotto ma soprattutto dai che cosa mangio veramente? e adesso lo vedremo che cosa mangio passato di verdura ti stai preoccupando Sofì? allora a me piace il passato di verdure ma le zucchine proprio beh ma per festeggiare guarda cosa ti piacerebbe sofì non si fa così a tavola vediamo adesso vediamo se ti sei comportata bene magari qualcosa di buono si sono un angelo eh si proprio guarda un angioletto diavoletto secondo me ti spuntano le corna fatti vedere non ce li ho vedi? si secondo me ti spuntano le corna non è vero oppure sei un angioletto arriva da mangiare no vabbè vabbè qui cosa c'è? la ragosta che cos'è? pesce impanato? si mmm che buono allora Sofì proverà la ragosta con la maionese come sarà? voglio assaggiare un nuovo gusto lo so sono pazza è la ragosta buona com'è? neve vieni la ragosta è un po' volgare eh per la maionese vieni neve stiamo cercando di far venire le nostre gattine qui al tavolo con noi c'è neve eccola neve vieni amore neve eccola mancano le due festeggiate principali neve è finita sotto il tavolo forse vuole un po' di pesce perché ai gatti è streita spiace tantissimo il pesce sofì sono un po' preoccupata perché è neve qui sotto al tavolo ed è qui con noi come al solito perché stanno sempre con noi le gattine ma Chloe dov'è? non vorrei che le sia successo qualcosa tu cosa dici? ma va figurati stanno bene stiamo festeggiando stiamo tutti bene ma figurati ma dove sarà Chloe? ma dai sarà qua nei dintorni eccola appena visto Chloe soffì avevi ragione non mi sono preoccupata troppo è che streitas per noi le nostre gattine fanno parte della nostra famiglia come è preziosa la nonna Rosi sono preziose anche le nostre gattine il papi vero Sofì? si meno male mi stavo preoccupando troppo ecco neve qui con noi che vuole mangiare tutto ciao la papà con tutte e due le gattine Chloe neve salutate tutti salutate le streitas sono un po' indisciplinate Sofì vero? vi faccio vedere un nuovo make up che si chiama maionesato si fa così guardate osservate così dopo ve lo mangiate anche un po' tadan quando avete fame fate così ma sei proprio bene guarda però ti preferisco senza e adesso è arrivato il momento dell'incoronazione per i festeggiamenti arriverà anche il dolce ecco qui Sofì ecco qui Sofì come siamo belle sembriamo delle fate un po' hawaiana è arrivata la torta di cioccolato metterò questa cannellina che è di colore arcobaleno l'arcobaleno è bellissimo l'arco vero? ma poi qui c'è tanto vento e questa fa la fontanella dai mettila mettila ok streitas per accendere la candelina della torta ci vuole questo che fa la fiammella e poi vi volevo dire adesso Sofì siamo un attimino allontanata perché è andata a vedere i gatti dove sono le gattine gemelle vi volevo dire rimanete con noi perché ci saranno altre sorprese io ho comprato un regalo speciale per Sofì da indossare insieme a me è una cosa bellissima che riguarda anche voi adesso chissà se qualcuno di voi indovinerà che cosa può essere comunque rimanete con noi adesso accendiamo la torta festeggiamo e poi ci sarà il momento del regalo e sono curiosissima di vedere la faccia di Sofì quando lo riceverà perché lei non sa niente accendiamo la candelina non la torta ho detto accendiamo la torta allora vediamo se riusciamo a accenderla ma la fiammella papi ma funziona sto coso è giusto? oh mamma ancora un po' ci spariamo addosso 100.000 100.000 100.000 e adesso se magna finalmente il momento più bello di tutti è quando si mangia la torta di cioccolato e anche vedere l'esplosione come? tieni Sofì mangia ti una ciliegina attenta che questa macchia non vorrei staccarti un altro dente poi vi spiegheremo cosa è successo al dente di Sofì fate le gattine vieni le gattine vieni le gattine eccoci qui siamo arrivati Sofì, è un momento importantissimo del video, ci sono le nostre gattine, Chloe, in braccia me e in braccia me Neve. Sono al sicuro con noi, sono la nostra famiglia, noi vogliamo tantissimo bene le nostre gattine, vero Sofì? Sì. Adesso? Quindi dobbiamo fare un balletto. Un balletto. Sì, ma non sul tavolo proprio, Sofì. Adesso i caschetti, i caschetti, i caschetti. Va bene, però adesso le lasciamo un attimino qui, Sofì, lasciali un attimino perché dobbiamo fare una cosa. Sofì, ti devo dare una cosa importante, ma comunque tu non hai sentito... Sì, i miei golì. Sì, infatti. Andiamo a vedere un attimino perché, non lo so, i miei golì è un po' strano. Sì. Di solito non fanno tutto questo rumore le gattine. Vero? Ma no. Niente. No. Ma voi, Estreitos, avete sentito qualcosa di strano? No, avete visto. Io non ho sentito niente di strano. Quindi la festa continua. Volevo darti una cosa speciale per rendere memorabile questo momento. Ok. 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 E' una collana che c'è una luna e una stella. Le stelline siete voi e le lunette siamo noi. Ne ho presi due, Sofì. Una per te e una per me. Ti piace, Sofì? Sì, sono bellissime. Ma ti piace? Sì. Come siamo, Estreita? Sarete sempre con noi adesso. Nel nostro cuore. Io però adesso voglio andare delle gattine. Nonna, Nonna Rosi. Ragazzi, ragazzi. E' estrellita, volevo dire. Ragazzi, ragazzi. Un attimo, un attimo. Sto dicendo. Questa collana, vedete come si incastra? È urgente. Ho visto una persona che portava via le gattine. Le gattine? Sì, sì. Come? Che c'è stato? Stoppa un attimo. Che cosa stai dicendo? No, no. Per favore, dovete correre. No, nonna, ma spiazza. Un attimo, un attimo. Calmati, nonna Rosi. Calmati, calmiamoci. Dici, non calma. Che cosa è successo? Ho visto un ladro che portava via le gattine. Un ladro? Calmati, sì. Come le gattine? Calmati, calmati. Per romenar la cesta. Calmati, calmati. Dove sono? Dove sono? Calmati, neve, calmati, neve. La pappa, la pappa. Amori, amori. Oh, no. Noi quando gli diciamo la pappa, loro vengono subito e non stanno rispondendo. È una tragedia. Nonna Rosi. Ma che parte l'hai visto andare via? Qui, qui. Secondo me, aspetta. Sarà andato all'uscita, sarà scappato. Sì, sì. Nonna Rosi. Non c'è più nessuno. Oh, no. No. Dove sono? Dove sono? Dove sono? No. No. Vi devo... No, no, Sofì. Qui non c'è più nessuno. Da questa parte non c'è nessuno. No. Da quest'altra parte non c'è nessuno. No, io ho paura che... Nonna Rosi, ho paura che si abbia fatto in tempo a scappare. Sofì, vieni qua. Non stare in mezzo alla strada, che pericoloso. Dove siete? Sofì, vieni. No, Sofì. Questa festa, che doveva essere il festeggiamento dei centomila iscritti, è finita in tragedia. Io non ce la faccio a continuare, non ce la faccio a darvi il besito. Anche io. Il papi non so dov'è perché si è assentato e adesso dovremmo dirgli anche questa cosa. Estreita, per favore, iscrivetevi. Cliccate la campanella e lasciateci un like se volete che noi riusciamo a recuperare le gattine. Gli è venuto un mal di testa. E comunque i besitos ve li mandiamo così. No, non ce la faccio, scusate. Ci vediamo al prossimo video, vi faremo sapere che cosa riusciremo a fare. Sofì. Ciao, Estreita. Ciao. 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 Ciao.